Buongiorno a tutti, sono Fiordo Ranadese e benvenuti di nuovo a una nuova recensione. Vorrei ringraziare le 12 persone che hanno visto il mio precedente video, anche a chi mi ha messo non mi piace, almeno hanno espresso il loro giudizio, giudizio che tra l'altro io considererò. Perché effettivamente, come mi hanno detto molti miei amici, sono logorroicissimo, un po' come Bruce Priesting dei primi due album, quindi in futuro cercherò di essere un po' più sintetico. Però c'è una ragione se non sono così sintetico, è difficile parlare di musica parlando solo di musica. Ad esempio, oggi abbiamo la recensione dei due album che ha fatto uscire Bon Iver, For Emma, Forever Ago e Bon Iver, Bon Iver. Uno è uscito nel 2007, uno è uscito nel 2011, l'anno scorso. Bon Iver, Bon Iver è stato anche reputato l'album più bello del 2011, generalmente da tutti. Vi ricordate la prima volta di Bon Iver? Bon Iver, Bon Iver, Bon Iver, Viacola. Quest'anno sarà l'anno di Bon Iver. Per il fatto che due sono i concerti che tutti gli indie italiani stanno aspettando. Il concerto di Radiohead, che dopo neanche un quarto d'ora ha fatto sold out, che, vabbè, per chi volesse andarlo a vedere ci saranno migliaia di bagarini davanti a quel cazzo di palazzetto, cosa molto brutta. e il concerto il 19 luglio a Ferrara di Bon Iver. Parlando di Bon Iver, è difficile parlare solo della musica che fa Bon Iver, anche perché a livello musicale, sì, lui scrive bellissime canzoni, però si rifanno al folk più tradizionale. È difficile parlare solo della musica, anche perché Bon Iver è stato uno dei primi artisti con cui abbiamo scoperto il potere di internet. Lui ha fatto uscire, si è autoprodotto il primo album nel 2007, e senza nessuna campagna pubblicitaria assoluta, è diventato un fenomeno di internet. Semplicemente per il fatto che, se prima io ascoltavo l'album di Bon Iver, For Emma, Forever Go, e mi piaceva un sacco, come è piaciuto un sacco, dicevo a tre mie amici, che poi questi tre mie amici l'avrebbero detto a tre, quattro amici, finché non si creava col tempo un passaparola che avrebbe portato al successo di quest'album, perlomeno in una cerchia riscretta. Con internet, una persona ascolta For Emma, Forever Go, gli piace e lo promuove, però invece di dirlo a tre suoi amici, lo promuove tramite social network, tramite Facebook o MySpace, e invece di dirlo a tre amici, lo dice a 300, a 3.000. E quindi Bon Iver, senza alcuna campagna pubblicitaria, è diventato famosissimo, ed è stato il primo artista che ha raggiunto un successo veramente grande, semplicemente con il passaparola informario. Poi, dopo il 2007 ne verranno tantissimi, soprattutto perché Bon Iver ha rappresentato il potere di Pitchfork, che è il sito più importante di recensioni mondiale, perché Pitchfork lo ha recensito alla grande, leggendo questa recensione la gente ha ascoltato l'album e se ne ha innamorato. È un avvenimento importante nella storia della musica, l'avvento di Bon Iver, proprio perché ci ha fatto scoprire come internet può muovere le vendite di un disco. E poi anche perché Bon Iver, con la sua storia, che andremo a vedere dopo, ha inventato lo stereotipo indie, che poi lui stesso ha distrutto col secondo album, del ragazzone barbuso che si rinchiude in una pannina del Wisconsin, in mezzo alla natura, fuori dalla civiltà, a comporre le sue danzioni, solo con la chitarrina e un registratore. Naturalmente con la camicia a quadrettoni, che fino a poco tempo fa spopolava anche nelle discoteche. Questa figura del cantatore che si può racchiudere anche solo in questa immagine, che basta e avanza per spiegarla. Bon Iver è l'acronimo di Justin Vernon. Justin Vernon è una persona che nel 2007 si rinchiude in una capannina del Wisconsin, con la chitarra e il registratore. Lo fa semplicemente perché è deluso, è una persona delusa, dalla vita che ha portato al fallimento della sua band, col quale pensava di avviare una carriera, ma anche dall'amore, perché questa Emma del titolo Forema Forever Ago si sono lasciati, che lui poi più avanti affermerà che esiste veramente questa Emma. Chissà come sia sentita lei, ha sentito si dedicato uno degli album più importanti degli anni zero. Si isola dal mondo e inizia a scrivere le sue canzoni. Il registra, poi produce l'album, si lo autoproduce, aggiunge qualche batteria, come nella iniziale flume, oppure i fiati che si sentano in Forema. Però sono canzoni molto semplici e nella sua semplicità molto belle. È un album di cui ci si può innamorare alla follia. Io penso che una manzone come Skinny Love sia una... È bellissima. È un album che fin dalla copertina è un album molto cupo, molto invernale. Si sente che proprio parla di una persona che è stata molto delusa. Però molto spesso dal dolore si può uscire fuori e creare qualcosa di bello. Anzi, molto spesso la felicità non è che dia così tante ispirazioni. È un album di una persona sola. Si sente che praticamente ha fatto tutto, anche se poi durante i live o le esibizioni televisive sarà accompagnato. Sarà accompagnato anche con praticamente due sezioni ritme. Quindi un suono abbastanza molto denso. Riarrangerà tutto l'album. Però è un album in solitaria. Possiamo dire che è una band, però è una one-man band, si dice. Cioè quelle band che alla fine chi scrive, chi compone, chi fa tutto è una sola persona. Come i Nights Nights, per esempio, di Translavons. Come ho detto prima, è un album che si fa a un sacco di cantanti folk. Nick Drake, Nellie Young, Nellie Young il più intimista, naturalmente. Oppure Tim Buckley. Tutte queste persone che sono i pilastri del folk. Che poi il folk si sa è una canzone, è la canzone popolare. Quindi alla fine capire da che cosa una persona prende ispirazione è un po' difficile parlando di è una musica che viene da dentro, è una musica che tutti noi abbiamo. Aveva creato questo stereotipo veramente nonnoioso che però aveva funzionato. È funzionato solo una volta, secondo me. Perché vabbè i Preet Fox sono una band che folk però non ha raggiunto le solite vette di Bon Iver. Io li trovo molto noiosi. Quindi passano quattro anni come una volata però se c'è qualcosa che ci può far capire che quattro anni sono veramente tanti è ascoltarsi questo album. Perché il Bon Iver di Forever Forever Go non è assolutamente lo stesso che ascoltiamo nell'album ononimo. Il cambiamento si vede basta solo guardare l'opertina e il titolo. Perché il titolo si chiama Bon Iver e quindi è come se ci volesse dire che guardate io sono questo non quello lì del primo album. E anche per la copertina Una natura in primavera. Infatti io vi consiglio il secondo album di ascoltarlo in questi giorni mentre Gui guidato in macchina che è una cosa meravigliosa. È la volonna sonora perfetta per la primavera. Quindi lui per primo con questo album sfasa è il mito dell'indie rinchiuso dentro la sua panetta a comporre musica a masturbarsi con la guitarra. Se nelle prime interviste quelle lì del 2007 lui in qualche modo enfatizza questa cosa enfatizza questo che la solitudine mi ha aiutato a creare queste canzoni nelle ultime interviste che ha rilasciato dice che lui è una persona semplicemente delusa che ha fatto questo album che però lui è una persona normale come tutti ha una sensibilità come tutti è stato deluso come tutti e ha scritto queste canzoni ma lui è molto di più e nel secondo album ce lo dimostra. L'album parte con una canzone Perth e già dai primi tre secondi dell'album si apisce che il Bon Iver che abbiamo conosciuto in 4M a Forever Go non è lo stesso di questo album perché parte con uno strumento bandito dal primo album una una chitarra elettrica un microassolo di chitarra più avanti nell'ascolto di questa traccia si capisce che lui riesce a creare strutture sonore molto più complesse di quelle semplici del primo album i suoni si sono fatti più pieni più maturi più sapori proprio come ho detto prima riesce a creare muro del suono veramente cioè se il primo album si sentiva fortemente che era un album creato da una sola persona questa volta si sente il lavoro di una band che crea tutta insieme il palzetto e la chitarra di Boniver sono il mezzo che tiene unito tutto tutto l'insieme quindi riesce a creare bellissime code musicali che erano impensabili prima come Ola Sin che ha una coda strumentale che fa gridare al miralo al cape acustiche alla Towers ma soprattutto tanta ma tanta elettronica mette elettronica anche degli anni 80 quindi tanti synth ma li usa in maniera estremamente giusta estremamente delicata estremamente bilanciata rispetto agli strumenti analogici non è una valanga di synth messi a caso tanto per fare per pocare ma è un'elettronica giusta usata in maniera razionale non per fare il figo perché tutti la usano si sente che è un album del 2011 nessuno viene a pensare a parte nell'ultima traccia che forse un pochino si esagera better rest però è una traccia che è registrata insieme a Ken West in uno studio all'Hawai quindi si era proprietato alla Pazza Gioia per esempio la canzone Michigan è la quinta traccia di questo album sembra a un ascolto distratto una canzone che si rifà al vecchio Bon Iver però ascoltandola per bene si sente uno strato di synth e altri suoni per esempio appare anche il sax cosa impensabile nel primo album che ci fanno ricordare quale album stiamo ascoltando chi considera questo album il migliore del 2011 secondo me ha ragione perché per quanto io preferisca altri artisti oggettivamente è l'album del 2011 tutto per discorsi al di fuori musicali perché lui è stato il primo a a voler maturare a non volere stare sempre nel vecchio stereotipo dell'indie isolato dal mondo e vabbè anche perché è fatto di canzoni bellissime altro è un album molto breve che è composto da nove canzoni più uno strumentale tra l'altro come il primo album che era composto da nove canzoni più uno strumentale quindi si formava solo di nove tracce questo invece ha uno strumentale abbastanza inutile però vabbè dura un minuto e mezzo possiamo concederglielo e oggettivamente lo è perché con i suoni di oggi con i suoni che vanno oggi sia quindi la parte dei synth sia la parte del folk dell'indie folk più è più spietato diciamo è riuscito a unire queste due fazioni della musica alternativa e a creare un album della madonna non c'è per esempio un canzonciona che si può cantare attorno a un fuo sulla terra come skinny love però non è un problema perché come abbiamo già detto lui l'ha già fatto e voleva fare qualcos'altro per questo album questa era la recensione di boniver ci ho messo mezz'ora penso verrà un video lunghissimo come sempre ma una volta posso fare un video più corto Bruce Priestinger coglioso di me almeno questo lo so bye bye bombay my 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 someone knows fool so slow on the scale and I told you to be patient and I told you to be fine and I told you to be balanced and I told you to be kind to be kind and I told you to be kind